Luca Pellegrini il capitano della grandissima Samp e tutti i colori del cuore vuole essere un ringraziamento a quei tanti tifosi che ti hanno anche applaudito in tantissimi anni sì beh indubbiamente è una grandissima iniziativa il complimento ovviamente con te che hai avuto questa brillante idea e poi è una cosa originale qualcosa che comunque ancora una volta rende diversa in positivo ovviamente la Samp e i suoi colori la Samp sta attraversando un momento un po' alternante visto da un giocatore come te che conosce profondamente il sistema del gioco del calcio quali potrebbero essere le modifiche da apportare molto velocemente? le modifiche? è importante secondo me arrivare a gennaio con le ossa meno rotte ma direi che i sette punti in ultime tre partite sono già state una buona medicina e poi operare dal profilo direi qualitativo prendendo i giocatori che diranno ampie garanzie di rendimento per il proseguo del campionato da gennaio fino a fine maggio che cosa ti manca? ritornando a parlare dei tifosi dei tifosi adesso che non sei più sul quadrato di campo che cosa mi manca? devo dire che l'affetto che hanno fatto sempre sentire ma questo grazie anche al primo canale lo percepisco nella quotidianità grazie grazie grazie